Per banchi giallorossi ci troviamo al liceo dei Giorgi di Lecce con i ragazzi del quinto, ovviamente tutti i tifosi del Lecce. Ovviamente sì. Lecce-Inter è finita a 4-0 per Leonardo Zuri. Sapevamo di affrontare la prima della classe, che non sarebbe stata una partita difficile, però è stata una punizione troppo pesante, per quello che abbiamo dimostrato soprattutto nel corso del primo tempo. Troppo più forte l'autorio Martinez e compagni? L'Inter è sicuramente una squadra fortissima. Secondo me non sono queste le partite in cui bisogna fare punti, ma comunque almeno strappare un pareggio sarebbe stato buono per il Lecce, per la salvezza. Dalla settimana prossima inizia quello che dovrebbe essere il campionato del Lecce, si va a Frosinone contro una diretta concorrente? Contro le dirette concorrenti abbiamo dimostrato il nostro valore e ce la possiamo giocare a testa alta con tutti. Confido nei nostri giocatori, confido nell'allenatore che ha saputo in alcune partite nel corso del campionato, ha saputo leggere gli avvenimenti e ha saputo adattarsi. Cosa dovrebbe cambiare l'allenatore, pure a livello tattico? A livello tattico non penso ci sia niente da cambiare, perché anche nella partita di ieri contro l'Inter abbiamo dimostrato un'inversione di marcia rispetto a ciò che è stato l'andamento nelle ultime partite. Io credo si debba intervenire più sull'aspetto psicologico dei nostri giocatori, perché ho visto alcuni elementi della nostra formazione un po' lascivi, con scarsa attitudine a lottare. Grazie a tutti.